Allora, brevissimamente, intanto presento il Complexity Institute, molti di voi hanno già partecipato ai precedenti incontri, quindi già ci conoscono, comunque brevissimamente siamo un'associazione di livello nazionale, sono dieci anni ormai, quest'anno facciamo dieci anni di attività e il nostro obiettivo è quello di diffondere l'approccio della complessità per aiutare le persone a comprendere meglio il contesto in cui si trovano e anche l'evoluzione delle situazioni che ci attendono e quindi questi webinar proprio hanno avuto questo obiettivo, quindi è stato un invito da parte di Alberto Sprogio e dell'ACRI di Mirano proprio di portare anche sulla realtà locale, ma poi anche a livello nazionale, questo tipo di approccio che in questo momento è decisamente importante più che mai. Aggiungo che si concludono appunto, come diceva Alberto, questo ciclo in cui abbiamo collaborato per svolgere questi webinar, ma noi continueremo su questo percorso la prossima settimana, quindi noi continueremo come Complexity Institute, quindi mercoledì prossimo avremo un nuovo incontro in collaborazione con le Complexity Education Project, che è un'altra entità che lavora sulla complessità a livello nazionale e diciamo avvieremo una serie, quindi sempre di mercoledì sera, sempre con questa, diciamo più o meno con questo formato, con dei leggeri cambiamenti e la cornice che abbiamo scelto insieme è Nuove domande per un nuovo mondo, per affrontare consapevolmente scenari complessi. Quindi cercheremo di focalizzarci soprattutto su quali sono le domande, più che avere delle risposte, che la complessità non sempre è in grado di dare risposte, ma di capire quali sono le giuste domande, forse sì. Ed è questo proprio l'obiettivo che noi ci vogliamo porre per capire il mondo che ci aspetta, perché decisamente sarà nuovo per noi rispetto a quello che siamo stati abituati a vivere. Il prossimo incontro sarà insieme a Enrico Cerni, che alcuni di voi avranno già sentito nel webinar che abbiamo fatto, insomma uno dei primi webinar che abbiamo fatto insieme. Insieme a lui ci sarà Vera Gheno, vi accenno brevemente chi è Vera. Vera è una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, insegna all'Università di Firenze, collabora con la casa di Edrice Zanichelli, ha scritto numerosi libri, soprattutto in questo ultimo periodo, il suo ultimo, e Parole contro la paura, edito da Longanesi. Enrico Cerni, anche se lo conoscete, lo ripeto brevemente, lavora come responsabile della facoltà interna di una multinazionale italiana, oltre che manager e formatore è anche scrittore, ha pubblicato saggi, manuali per le scuole, libri per i ragazzi e un romanzo. Il tema del prossimo incontro è la materia delle parole, sostanza per nuove domande. Il moderatore sarà Dario Simoncini. Ecco, io mi fermo qui, quindi diciamo che comunque proseguiremo con questo percorso, quindi vi invito a continuare a seguirci. e lascio la parola a Simonetta Simone, che stasera ha l'arduo compito di fare da moderatrice per i relatori di stasera. Quindi presentaci tu, Simonetta, chi sono i relatori e anche un attimo qual è il tema che toccheremo stasera. Aspetta, non ti sentiamo. Ok, mi sentite adesso? Sì. Allora, io nel presentare questa quarta serata organizzata dal Complexity Institute insieme alle ACLI di Mirano, ho pensato di invitarvi immediatamente per presentarvela a fare un esercizio di immaginazione, perché è di questo che parleremo tra le altre cose questa sera. E allora provo a tracciare una sorta di piccolo percorso immaginativo, provando a ripensare insieme a questi quattro incontri che abbiamo fatto, come se fossimo stati guidati all'interno di un grande edificio culturale, di quelli polivalenti, tipo il centro Pompidou di Parigi, o qualcuno di voi ne avrei visitati altri che ce ne sono in tutte le capitali europee. E questi centri, se noi immaginiamo che abbiamo visitato i diversi spazi di un centro culturale come il centro Pompidou, dentro a questi spazi ci sono tanti luoghi diversi, ci sono spazi espositivi, gallerie, biblioteche, c'è un ristorante, c'è una grande terrazza panoramica. E allora vorrei ripercorrere questi temi per arrivare a quest'ultimo di questa sera. Abbiamo cominciato dalla terrazza panoramica, è sulla terrazza panoramica che ci hanno condotto Giuseppe Zollo e Marinella Di Simone. Ci hanno mostrato, dall'assù, il panorama, l'ampio panorama delle sorprese della complessità, come se noi vedessimo una distesa di tetti, di edifici, di spazi verdi e di monumenti riconoscibili da lontano. Il quartiere dell'ordine, quello del disordine, la piazza del caos, il parco della generatività e il fiume della fluidità. Poi, con Dario Simoncini ed Enrico Cerni come guide, siamo entrati nella sala del labirinto degli specchi, denominata Orlo dell'incertezza. Ed è solo grazie al loro aiuto che ne siamo usciti sani e salvi dopo aver superato le emozioni dei vivi incrociati, la paura dell'impasse delle decisioni ed esserci gustati la leggerezza funambolica degli equilibri variabili. Mercoledì scorso, con Alberto De Toni e con la sottoscritta, abbiamo esplorato un altro luogo, il seminterrato del teatro off, quello sperimentale. Lì abbiamo assistito a un match di improvvisazione teatrale seguendo il mutevole canovaccio dell'auto-organizzazione, in cui non si sa mai cosa succederà, come andrà a finire e soprattutto a chi tocca adesso. E stasera il gran finale. Stiamo per entrare in un museo, in un museo particolare, un museo interattivo, quello delle rappresentazioni della complessità. Come ci ha ben descritto Enrico Cerni sui social, saremo spettatori di una sfida tra scienza, arte e design. La lava del vulcano, scriveva Enrico i giorni scorsi, suonerà una musica jazz. I nostri occhi saranno attratti dagli spettri delle frequenze. Le nostre orecchie ci faranno ascoltare i colori dei quadri. E come accade quando visitiamo un museo, soprattutto sostando davanti ad opere di arte contemporanea, alcune di queste ci piaceranno subito. E di fronte ad altre, invece no, rimarremo perplessi, perché non corrispondono alla nostra sensibilità e alle nostre mappe. Non ci piacciono forse perché non le capiamo, o forse perché non troviamo la giusta prospettiva per inquadrarli. È questa la sfida di stasera, tra l'osservare e il conoscere, tra il riconoscere e l'aprirsi all'ignoto. In questo straordinario museo avremo due guide d'eccezione, Paolo Della Versana e Massimo Conte, che vado a presentarvi. Paolo Della Versana è laureato in scienze geologiche e in fisica, si occupa di sviluppo di tecnologie geofisiche innovative e di machine learning in EniSpa. È autore di vari brevetti, ha pubblicato oltre 100 articoli scientifici e 6 libri. Nel 2018 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella il prestigioso premio Eni Award come riconoscimento internazionale all'innovazione. Per me il suo nickname è il rabdomante della complessità. Massimo Conte si occupa di e-learning per grandi organizzazioni da casi 15 anni come Project Manager e Institutional Designer. Attualmente cura progetti di digital learning per Eco e Learning Studio. È il coordinatore editoriale del Festival della Complessità e del Complexity Education Project, gruppo di studio e ricerca sui sistemi complessi dell'Università di Perugia. Per me il suo nickname è l'architetto della complessità. Do quindi la parola a questo punto per parlarci di questo bellissimo, intrigante tema che è la rappresentazione della complessità a Paolo della Versana. Bene, buonasera a tutti. Simonetta, grazie per la bella introduzione. Poi sul nickname ne parliamo a quattro ore. Dunque sì, io stasera mi avventuro in questo tema meraviglioso che è la rappresentazione della complessità e parlerò soprattutto di immagini, imaging e immaginazione. Proprio per questo motivo ho preparato delle immagini e quindi faccio subito uno share screen. Dunque, cerchiamo la presentazione. Vedete lo schermo? Sì, sì, si vede. Sì, sì. Ok, vedete la presentazione? Sì, sì. Un attimo però devo anche fare lo share di computer sound. Ok, dunque io parlerò di immagini, dicevo, però cercherò di dare una connotazione molto generale, più ampia del concetto di immagine rispetto a quella che generalmente si intende. cercherò di introdurre degli elementi di novità rispetto alla concezione che generalmente abbiamo di immagini, di imaging e di immaginazione. La prima domanda che vorrei fare a me stesso e a tutti quanti voi è perché rappresentare è così importante non soltanto per affrontare la sfida della complessità ma nella vita di tutti i giorni? Perché le immagini sono così importanti per noi esseri umani? Questa domanda se l'è posta un grandissimo neuroscienziato che è Antonio Damasio nel suo bellissimo libro Il Se viene alla mente lui chiarisce molto bene che il nostro cervello funziona attraverso la rappresentazione di immagini mentali quindi attraverso le immagini il suo linguaggio sono le immagini in gran parte e la moneta corrente del nostro cervello dice Antonio Damasio sono le immagini in effetti che cosa sono queste immagini mentali o mappe mentali come li chiama Damasio? Sono prevalentemente popolazioni di neuroni di moltissimi neuroni che oscillano in maniera sincrona in maniera collegata tra di loro e consentono in qualche modo di sviluppare il ragionamento ma non soltanto il ragionamento diciamo che attraverso le immagini il cervello parla innanzitutto con se stesso poi comunica con l'esterno e comunica col corpo che lo ospita quindi il motivo principale per cui le immagini sono così importanti è perché rappresentano un po' il linguaggio del cervello però attenzione qua ci tengo subito a sottolineare che non mi riferisco soltanto a immagini visive cioè il cervello sviluppa produce continuamente mappe neurali non soltanto sulla corteccia cerebrale ma anche al di sotto di essa nella parte più antica del cervello mammifero in risposta sia a stimoli visivi ma anche a stimoli di altro tipo stimoli sonori, stimoli olfattivi, stimoli tattili e poi integra tutti questi stimoli integrando proprio queste mappe neurali quindi il cuore dell'integrazione multisensoriale è proprio reso possibile diciamo può pulsare proprio grazie a questa interazione continua di mappe neurali la evoluzione moderna diciamo così l'applicazione poi di questi concetti cioè dell'importanza delle immagini per il nostro ragionamento stesso e per l'attività del nostro cervello è l'imaging l'imaging diciamo così è il modo moderno di chiamare la rappresentazione l'imaging ci consente di rappresentare la complessità in questa figura vediamo a destra un brain imaging a sinistra invece abbiamo un earth imaging quindi un imaging del sottosuolo sono due tipi di imaging completamente diversi con finalità molto diverse a scale spaziali molto diverse ma in ogni caso basati sulla stessa matematica quindi c'è qualcosa che li accomuna sono gli algoritmi matematici di fondo che consentono di ottenere una tomografia di brain imaging quindi una brain tomography così come una seismic tomography per rappresentare il sottosuolo l'imaging però può essere in qualche modo ampliato e diciamo tenendo conto di tutto quello che ho detto nell'introduzione cioè di come il nostro cervello funziona per integrazione di mappe multisensoriali io ho sviluppato negli ultimi anni in collaborazione con dei colleghi degli algoritmi matematici che ci consentono di espandere il concetto di imaging e portarlo al di là della sua rappresentazione di immagini visive e abbiamo praticamente prodotto degli algoritmi che consentono di estrarre suoni dalle immagini e immagini dei suoni in qualche modo riusciamo a mixare immagini visive e immagini sonore nella stessa percezione binodale in modo da ampliare la nostra percezione di sistemi complessi sistemi complessi che possono essere appunto quelli di rocce all'interno della crosta terrestre a 3-4 km di profondità ma possono essere anche immagini complesse di altro tipo come quelle di un di un cervello umano per esempio io ho portato qui degli esempi partirei subito con questo esempio in cui abbiamo l'immagine visiva di un di un'eruzione vulcanica qui abbiamo la lava del Kilauea un vulcano delle Hawaii e abbiamo trasformato questo il suono della lava stessa in in un'immagine musicale addirittura cioè abbiamo estratto tramite il nostro algoritmo tutto il contenuto in frequenza di queste di questo suono per poi trasformarlo in uno spartito diciamo così di musica elettronica che può essere eseguito tramite il il computer utilizzando programmi di gestione di file MIDI e abbiamo addirittura la possibilità di creare degli spartiti musicali del suono del vulcano quindi mettiamo in musica il il vulcano la lava del vulcano tutte queste questi trattini rossi che vedete sono note sono note musicali che vengono eseguite da una tastiera virtuale quindi le note più in alto chiaramente hanno una tonalità più alta quelle più basse sono rappresentate qui intorno ai 60 70 hertz rappresentano suoni più prolungati sono degli accordi di tonalità più bassa che hanno un significato fisico questa è la cosa importante per noi cioè creare e starre dei suoni e delle musiche addirittura da fenomeni naturali complessi come un'eduzione vulcanica e trasformarli in musica preserva il significato fisico e geologico del fenomeno stesso perché per esempio come ho cercato qui di rappresentare graficamente ci sono grossi accordi dissonanti che rappresentano delle grandi bolle di lava che esplodono così come ci sono delle note isolate che rappresentano bolle più piccole o degli effetti di rilassazione che si esplicano sonoramente parlando a più alta frequenza proviamo ad ascoltare proviamo ad ascoltare un pezzettino di questa musica non si sente aspetta allora proviamo riproviamoci ecco non so se siete riusciti si sentiva? si ok è venuta fuori praticamente una musica jazz traducendo il suono della lava del vulcano in un file di musica elettronica ed eseguendolo con un piano jazz è venuta fuori eseguendolo automaticamente cioè ha fatto tutto il computer è venuto fuori questo pezzo sincopato io ho scelto soltanto il timbro cioè lo strumento e non è a caso non è un caso che io abbia scelto un piano jazz perché ho voluto mettere in evidenza la ritmica sincopata di questo fenomeno naturale ecco cominciamo a comprendere il significato fisico musicale di questo fenomeno e di questa tecnica praticamente noi scegliendo un piano jazz otteniamo in effetti una musica sincopata che mette molto bene in evidenza la ritmica del fenomeno inoltre sentiamo dei grossi accordi dissonanti in in background che rappresentano le grosse bolle di lava che esplodono quindi riusciamo a preservare il significato fisico del fenomeno la cosa importante è che noi con questa tecnica possiamo rallentare come ci pare l'esecuzione del dell'imaging sonoro di questo di questo fenomeno perché avendo trasportato tutto in un ambiente di musica digitale MIDI MIDI significa Musical Instrument Digital Interface ci consente di regolare la velocità di esecuzione del brano quindi di andare anche molto lentamente e quindi cercare di percepire nota per nota mettendo in evidenza tutti i fenomeni che avvengono nell'ambito del fenomeno naturale che stiamo studiando quindi tutti i micro fenomeni possono essere isolati ed esaltati ecco vi faccio sentire un piccolo pezzettino della stessa musica però eseguita come uno strumento diverso a velocità molto ridotta per vedere se riusciamo a catturare anche i particolari Ecco naturalmente mi fermo mi fermo lì perché se no diventa troppo noioso però il messaggio che io volevo trasferire è quello che noi riusciamo con questa tecnica ad avere una rappresentazione di un fenomeno complesso in maniera bimodale cioè trasformiamo un'immagine in suoni i suoni in musica e poi la musica nuovamente in un'immagine in questo caso per esempio lo spartito del fenomeno naturale questa stessa tecnica si può applicare a qualsiasi altro tipo di fenomeno anche un fenomeno umano come il battito cardiaco in questo caso abbiamo un elettrocardiogramma qui nel pannello superiore trasformato anch'esso in musica midi qui rappresentato nel dominio di una tastiera virtuale ancora una volta queste sono tutte note sono accordi midi e questo è lo spartito del battito cardiaco proviamo a sentirne un pezzettino è tutto molto rallentato io ho rallentato molto l'esecuzione di questo battito cardiaco cercando di utilizzare anche uno strumento che ne creasse la ritmica molto dilatata nel tempo però in questo caso ascoltiamo un brevissimo pezzo e cercate di cogliere la ciclicità del fenomeno questo è un esempio del battito cardiaco messo in musica midi vedete noi abbiamo tantissime note che ne rappresentano l'esecuzione musicale elettronica che ci consentono qual è il vantaggio di questa tecnica di poter andare nel dettaglio analizzare tutte le componenti in frequenza del fenomeno che stiamo studiando in questo caso il battito cardiaco avendo quindi la possibilità anche di effettuare delle diagnosi più accurate di quelle che effettueremmo guardando soltanto l'immagine visiva oppure ascoltando con strumenti tradizionali il battito stesso con questa tecnica noi possiamo esplorare il fenomeno nei suoi minimi dettagli con vantaggi enormi ai fini della diagnosi la stessa tecnica può essere applicata in altri ambiti io per esempio l'ho applicata anche qui in uno dei fenomeni più complessi che noi conosciamo che è il linguaggio umano anche il linguaggio umano può essere trasformato in musica ne possiamo avere un'immagine estesa come dicevo all'inizio della presentazione ho preso a titolo di esempio la prima frase della Divina Commedia recitata da un attore famoso ne ho fatto lo spettro di frequenza che vedete qui nel pannello superiore quindi ne ho subito creato un'immagine visiva quindi un'immagine visiva del linguaggio ma allo stesso tempo un'immagine fisica vedete come si espande il significato della parola immagine questa immagine fisica però mi serve per fare qualcos'altro io estraggo i contenuti in frequenza dallo spettrogramma e li trasformo in note MIDI che porto in un ambiente di musica MIDI quindi li faccio eseguire al computer da una tastiera virtuale ne guardo anche l'istogramma e posso anche addirittura rappresentarne lo spartito ecco questo per rispondere alla sfida che ha lanciato Enrico Cerni qualche giorno fa su Facebook qual è la materia delle parole ecco io direi che la materia delle parole è diciamo che le parole sono fatte di immagini però di immagini complesse immagini che contengono anche musica quindi qui abbiamo una rappresentazione esemplare di questo concetto una rappresentazione di un'immagine estesa addirittura possiamo andare a studiare gli ecosistemi nella loro enorme complessità attraverso questa rappresentazione complessa delle immagini io qui ho estratto un piccolissimo pezzo però molto significativo che rappresenta dalla musica di uno sciame di api ho catturato il suono di uno sciame di api con le nostre trasformate matematiche l'ho trasformato in musica midi ho rallentato estremamente l'esecuzione di questa di questa musica per poter catturare non soltanto lo sciame di fondo quindi il rumore di fondo ma addirittura mettere in evidenza i singoli eventi musicali associati alle singole api questa è una cosa che è possibile fare soltanto con una rappresentazione di imaging esteso di questo tipo ascoltiamo un brevissimo pezzettino perché purtroppo il tempo è tiranno così ci rendiamo conto direttamente di cosa sto parlando ma sembra che non ci sia adesso tanto ok quindi questo era un po' il messaggio che io volevo dare cioè espandere il concetto di immagine e portarlo ad una rappresentazione multimodale molto più potente per poter studiare la complessità di certi fenomeni l'ultima cosa che volevo dire è che l'evoluzione dell'immagine in imaging continua in un'altra evoluzione delle immagini stesse e dell'imaging stesso in immaginazione l'immaginazione è probabilmente lo strumento più potente che noi abbiamo per affrontare la sfida della complessità come giustamente mette in evidenza Einstein con la particolarità che oggi l'immaginazione tradizionalmente intesa può essere ulteriormente estesa attraverso la tecnologia in particolare io sto lavorando con le reti neurali per cercare di potenziare tramite l'intelligenza artificiale il lavoro di immaginazione che noi compiamo ogni giorno nei campi più disparati da quello artistico a quello scientifico non mi posso dilungare su questo tema però volevo sottolineare quest'ultimo concetto perché ho parlato di immagini estese di imaging esteso mi piaceva introdurre anche l'importante concetto di immaginazione estesa nel senso che è potenziata dalla tecnologia ecco io con questo mi fermerei e lascerei spazio alla prossima discussione grazie mille Paolo ci sono stati molti commenti molti apprezzamenti del fascino di questi passaggi e di questo modo di pensare all'imaging una sottolineatura dal punto di vista della musica Geppi Guarini ci dice sembra di ascoltare Berio grande Luciano Berio e oltre a tutti gli altri apprezzamenti affascinanti misterioso Patrizia Visciola dice che il covid anche il covid ha un suono esatto esatto e poi Elisa Lucatelli aveva commentato sul fatto che immagine qui si traduce in rappresentazione poi possiamo tornarci più tardi e Giuseppe Monopoli aveva fatto la domanda perché non usare strumenti a percussione magari prendiamo nota e ne parliamo più tardi passo la parola a Massimo Massimo Conte siamo in aspetto allora eccoci qui condividerò anche io lo schermo perché se parliamo di immagini allora io dopo aver seguito con grande interesse il viaggio che ci ha fatto fare Paolo proverò a fare un'altra parte di percorso per capire che cosa facciamo quando guardiamo un fenomeno che chiamiamo complesso però nel primo minuto in cui io parlerò di questi 20 minuti che parleremo insieme vorrei partire dai dati visto che parliamo di rappresentazione che ci aiutano a comprendere la realtà che abbiamo intorno e quindi al momento queste sono stime che potete trovare su questo sito abbiamo circa 4 miliardi e mezzo di utenti internet nel mondo abbiamo circa un miliardo e 700 milioni di siti web soltanto oggi più di 200 miliardi di email sono state inviate più di 6 miliardi di ricerche su google sempre soltanto oggi e potrei andare avanti per un po' però mi fermo qui perché partiamo comunque dai dati allora in questi mesi di crisi siamo stati letteralmente bombardati i dati però non sempre la comunicazione ha funzionato la sera in ticu ogni tanto mi è capitato di vedere su TV la 7 anche questo grafico io lo guardavo nonostante sia un po' appassionato di visualizzazione dei dati intanto mi chiedevo chiedevo pure a mia moglie ma che cosa stanno comunicando cioè se qualcuno lo guardasse un po' così di corsa che la temperatura media dei malati di coronavirus oggi è stata più bassa hanno avuto solo 37,6 37,3 non è proprio chiarissimo diciamo che questo è un esempio di metafora proprio efficace però di metafore usate per rappresentare la conoscenza ne possiamo usare molte addirittura io non lo sapevo ma Simonetta quando ci ha introdotto ha fatto anche lei un uso di metafora appunto per guidarci e diciamo che nell'ultima parte del ventesimo secolo abbiamo affiancata la metafora della struttura d'albero che è stata all'agra della conoscenza in cui abbiamo un'organizzazione gerarchica pensiamo anche soltanto alla divisione delle scienze in anni diversi a queste si è affiancata la metafora della rete in cui ci concentriamo di più sull'interconnessione degli elementi a destra vediamo ad esempio la rete dei personaggi di Romeo e Giulietta per esempio il sociogramma di Romeo e Giulietta quindi questo questa metafora della rete ci consente di avere una visione di insieme le reti possono essere molto efficaci per farci comprendere le caratteristiche di un sistema complesso e ora vedremo un esempio molto concreto che forse può aiutarci anche a comprendere alcuni dei dibattiti che abbiamo sentito in questi mesi in cui tutti siamo diventati esperti di epidemie di coronavirus anche in questo caso faccio un salto e vi faccio vedere questo game allora qui vediamo una rete ogni nodo è una persona una rete interattiva che si muove ogni linea ogni connessione è il contatto tra due persone quindi se questo sono io le connessioni che vediamo sono con le persone con cui io posso entrare in contatto fisicamente posso vedere quindi i miei familiari i miei colleghi i miei amici e poi ci sono nodi collegati ai miei nodi quindi la rete di secondo livello in questo gioco che era incentrato sulle vaccinazioni ma ora è di grandissima attualità noi possiamo vaccinare alcuni nodi questa detta in modo chiaro è la rete di soggetti suscettivi cioè qui c'è una rete di persone che potrebbero ammalarsi di una malattia noi possiamo fare delle vaccinazioni possiamo fare quattro punture come vedete qui in alto quindi io devo scegliere chi vaccinare che cosa succede quando vaccino una persona clicco su un nodo e il nodo sparisce dalla rete perché questa è la rete che mappa le persone che potrebbero ammalarsi ho ancora tre nodi a disposizione tre punture da fare a disposizione di vaccino elimino questo nodo elimino questo nodo ma eliminiamo quest'altro a questo punto che succede arriva il virus nella nostra rete un nuovo virus un nuovo virus come vedete è spuntato qui allora io che faccio adesso è un po' una corsa contro il tempo io devo cercare di salvare tutte le persone possibili allora che faccio inizio a vaccinare qualcun altro vaccino questo vaccino questo vaccino questo come vedete il virus sta andando avanti in maniera molto veloce la mia strategia non è molto efficace anche perché in questo game che è una versione semplificata abbiamo a disposizione una mossa per uno ma se fosse a scatti quindi io posso eliminare un nodo ma il virus che si rifonde attraverso la rete da ogni nodo si propaga a sua volta a un nodo quindi vedete che qui c'è un disastro non sta andando bene questa politica di gestione ecco qua abbiamo finito l'epidemia ha finito la sua corsa piccola sorpresa è da un mese che parliamo dell'app di Muni quello che avete appena visto è qualcosa di molto simile alla rappresentazione di quello che si potrebbe fare con un atto di tracciamento non è esattamente la stessa cosa qui le regole del gioco sono un po' diverse però vi fa capire dopo un mese che parliamo di app io non ho mai visto non ho mai visto mostrare una rete per spiegarmi di che cosa stavamo parlando qui abbiamo visto come il contagio si propaga da una rete da un nodo all'altro della rete tanto per la cronaca vediamo i risultati di quello che ho fatto mi ha salvato solo il 34% della rete originale solo il 34% nel gruppo iniziale non si sono ammalati facciamo un altro salto allora io quando faccio una rappresentazione la posso fare come rete ma la posso fare anche in altri modi qui ogni quadratino è una persona quindi dai cerchi passiamo ai quadrati quindi questo immaginate che è la stessa gruppo di persone che abbiamo visto prima abbiamo una leggenda il grigio chiaro sono i quadratini suscettibili quelli che potrebbero ammalarsi ma ancora stanno bene i quadratini rossi sono quelli infetti quindi qui c'è un infetto grigio scuro guariti ancora qui non c'è la regola del gioco chi qual è ogni quadratino può passare la malattia ai quadratini che ha vicino quindi in questo caso quello centrale lo potrà passare sui quattro vicini anche qui proviamo a giocare in questo caso con un modello ad agenti questa è una simulazione che io ho tradotto in italiano come se fa l'abbiamo pubblicato sul sito complexity education punto com qui c'è la stessa rete la stessa matrice di quadratini che abbiamo visto prima ogni quadrato è una persona abbiamo una serie di parametri incontri al giorno ognuno dei nostri quadratini può incontrare 20 persone al giorno raggio di spostamento 10 probabilità di trasmissione diciamo 0,3 qui non stiamo parlando del coronavirus di una potenziale possibile epidemia proviamo a vedere che succede una prima volta facciamo partire la simulazione ok per capire meglio cosa è successo qui vediamo la curva questo è stato il tempo e questa è la famosa curva da abbassare come hanno detto gli inglesi flat and the curve noi possiamo provare però a ripartire e a cambiare la nostra simulazione 20 incontri al giorno sono troppi proviamo a passare a 10 incontri vediamo che cosa succede guardate quello che succede qui sopra guardate anche la curva sotto dove c'è il tempo le persone si sono ammalate lo stesso e sono guarite però questa curva è più bassa di questa curva facciamo un ultimo tentativo resetto di nuovo raggio di spostamento non più 10 io dico al mio gruppo di quadratini dovete stare più di chiusi in casa quindi raggio di spostamento 1 ripartiamo guardate qui sotto la curva quanto si abbassa ok quindi in questo caso se io guardo questa rappresentazione ecco qui cambiando i parametri le domande potrebbero essere quali variabili devo considerare nel mio modello perché questo ovviamente è un modello semplificato come cambia la curva se cambia i parametri quello che ho fatto in questo momento un po' giocando vediamo che simulare uno scenario fornisce informazioni per fare scelte le scelte che hanno dovuto fare i politici di tutto il mondo in questo periodo non sono molto diverse da quelle che abbiamo visto ora non avevano forse a disposizione un simulatore così semplificato ma questo per rendervi l'idea di rappresentazione che può significare molte cose diverse allora torniamo a noi andiamo avanti abbiamo parlato di curve vi ho appena fatto vedere delle curve qui in alto vedete un grafico da febbraio ad agosto la disoccupazione del 2013 è scesa da 5 milioni a 4 milioni e 6 se un politico ci dicesse così diremmo ah ottimo bravo hai fatto bene il tuo lavoro però guardate questa box rossa qui in basso che indica questa curva qui se noi facciamo allarghiamo il nostro sguardo e quindi vediamo non solo da febbraio ad agosto ma vediamo nell'ultimo anno che cosa è successo vediamo che questa curva nell'ultima parte è scesa però prima era salita e un anno prima la disoccupazione aveva numeri simili a quella di agosto del 2013 quindi cosa possiamo dire sempre fare attenzione ai dati così come ci vengono presentati andiamo ancora avanti altre curve qui vi aiuto un po' perché come mi ha detto Dario quando Simoncini quando gli ho mostrato la prima volta questa curva dice io non capisco niente Massimo qui abbiamo una curva rossa il numero di persone annecate cadendo in cuscina negli Stati Uniti dal 99 al 2009 quindi c'è questa curva scende scende poi risale c'è il piccolo nel 2007 e così via qui c'è il numero di annegamenti la curva nera è il numero di film in cui ha recitato Nicola Stage in ogni anno qui c'è un grafico con una doppia scala perché il numero di film sta anche sulla destra vediamo com'è il grafico di Nicola Stage costante sale scende risale riscende e risale ancora allora il punto è ci potremmo chiedere ci sarà un legame tra queste due cose? possiamo forse pensare che Nicola Stage porti sfortuna? no come ci ricorda lui col suo faccione se due fenomeni hanno gli stessi andamenti non significa necessariamente che uno causi l'altro questo è un tranello a cui dovremmo fare sempre attenzione quando leggiamo dei dati diventa molto importante chiarire qual è il nostro punto di vista quando cerchiamo di definire un fenomeno quante sono le barre in questa immagine secondo voi? quattro? tre? ogni cosa detta è detta da un osservatore a un altro osservatore ci dicono Maturano e Varela nel momento in cui scegliamo un punto di vista stiamo facendo delle scelte dobbiamo metterci d'accordo però sul campo all'interno del quale ci troviamo facciamo un altro passo ancora a proposito del osservatore sicuramente molti di voi conosceranno questo quadro del titolo grandese Escher abbiamo una cornice esterna che ho avuto io un quadro quindi c'è un osservatore che guarda un quadro con dentro altri quadri nella galleria di stampe che dà il nome all'opera quindi c'è un gioco di rimandi con diversi livelli di approfondimento e diverse relazioni tra gli elementi e a questo punto se provassimo anche noi a cambiare punto di vista se facessimo questo se anche noi entrassimo nel quadro dov'è la complessità? Nel nostro specifico punto di vista o nel fenomeno in sé? allora quando presentiamo delle informazioni scegliamo un punto di vista estrarre informazioni in un certo senso e fare politica vi mostrerò tra poco un breve video sulle anomalie delle temperature per ogni nazione quindi qui troverete in alto l'anno che scorre qui in alto a destra la leggenda quindi i cerchi blu e celesti sono anomalie in cui nell'anno successivo la temperatura media è stata un po' più bassa arancione e rosso quando la temperatura media in quell'anno è stata più alta rispetto all'anno precedente facciamo partire questo video negli ultimi 150 anni vediamo cosa succede l'Italia è qui a metà videata sulla sinistra se ti interessa lascio il mouse qui anni 20 anni 30 intanto c'è qualche arancione un po' di blu procede arriviamo agli anni 50 gli anni 60 inizia a esserci qualche arancione in più anni 70 anni 80 gli arancioni iniziano ad aumentare inizia a scoppiare l'incendio anni 90 anni 2000 ok siamo arrivati al 2017 tutti vediamo come sono i colori ovviamente il cambiamento climatico non esiste è una bufala come dicono alcuni però io forse aggiungerei che Houston forse abbiamo un problema allora facciamo un altro passo visto che stiamo avanzando in questo museo come diceva Simonetta prima siamo inondati di informazioni come vi ho fatto vedete all'inizio possiamo trovare molte risposte però il punto diventa qual è la domanda che ci facciamo e quando abbiamo dei dati possiamo farci molte domande perché possiamo chiederci come un fenomeno è distribuito quando avviene dove avviene il cosa in questo caso sono delle parole chiave all'interno dei social quindi possiamo fare un'analisi dei temi possiamo chiederci con chi possiamo fare un'analisi delle reti come abbiamo visto prima Romeo e Giulietta e poi la rete delle vaccinazioni cioè quale nodo è collegato con quale altro soffermiamoci adesso su una mappa in particolare a cui io tengo molto questa è la mappa delle scienze della complessità che il sociologo inglese Brian Castellani ogni qualche anno aggiorna come avete visto io nelle slide ho sempre messo i riferimenti poi ci sarà modo comunque di condividerle sui nostri siti del complexity sia del complexity di institute sia sul nostro del complexity education project leggiamo questa mappa allora qui abbiamo sia il quando ogni colonna verticale o il decennio quindi abbiamo anni 60 anni 70 anni 80 anni 80 anni 90 poi abbiamo il cosa ogni cerchio infatti è una disciplina quindi si legge benissimo leggo qualcosa qui per voi c'è scienza dei sistemi teoria dei sistemi complessi cibernetica scienza delle reti big data modelli computazionali robotica fisica computazionale modelli organizzativi e potrei andare avanti ancora per molto e poi c'è una terza delle domande che abbiamo messo nella slide precedente ovvero con chi ovvero quali studiosi sono collegati a quali discipline quindi quelle che vedete qui in piccolo sono i nomi di alcuni studiosi ad esempio troviamo Stuart Kaufman che è collegato sia a sistemi complessi viventi sia a emergenza e così via quindi così come poco fa vi ho fatto vedere i due omini che dibattevano se le barre fossero tre o fossero quattro ugualmente quando parliamo di scienze della complessità parliamo di un insieme molto vasto un umbrello sotto cui ci sono molte cose quindi in questo caso la domanda diventa da quale punto di vista da quale disciplina stiamo provando a rispondere alle nostre domande complesse citando qui la galattica per autostottistiche io ho sempre molto amato la risposta alla domanda definitiva sulla vita all'universo e tutto quanto è 42 come sappiamo quando cerchiamo di capire un sistema cerchiamo delle risposte i grafici le infografiche se presentatele da sole chiaramente danno risposte definitive piuttosto possiamo dire che dei buoni grafici ci mettono nelle condizioni di fare buone domande e quindi delle buone rappresentazioni in chiusura quindi il punto fondamentale con cui vorrei lasciarvi e su cui concentrare la nostra attenzione quando guardiamo un sistema complesso è qual è la domanda quando io ho davanti un sistema complesso posso chiedermi e dovrei chiedermi quali sono le connessioni che tipologia di relazioni ci sono tra gli elementi quali sono i pattern cioè gli schemi emergenti quali sono le proprietà del sistema complesso il punto diventa che il problema diventa non è più soltanto conoscere la risposta ma sapere quali domande fare e come farle e con questo io vi saluto e ora lascio spazio alle vostre di domande grazie Massimo grazie Massimo nel frattempo che tu parlavi sono venute più che si è venuta una sola domanda rispetto al grafico che hai fatto vedere sulla sull'infezione cioè beh la prima che era venuta in realtà anche a me di Fatima Carbonara perché non ci hanno spiegato così no il propagarsi no del del virus e Maria Teresa 5 chiede la variabile tempo mentre si è in casa come può incidere rispetto agli schemi ai grafici che ci hai fatto vedere altre domande non ci sono ci sono sottolineature dell'importanza della prospettiva del punto di osservazione Mauro Periccioli consiglia un video che 3 Blue 1 Brown che spiega che consiglia per la spiegazione dei fenomeni epidemici poi guardo se ne è venuto grazie e complimenti a entrambi Simone Guglietti sottolinea che il timelapse sul cambiamento climatico dovrebbe essere fatto vedere tutti i giorni su tutti i telegiornali Enrico Bonetto risottolinea l'ultima la tua conclusione Massimo cioè è chiaro il messaggio ma cosa possiamo ispirarci per farci buone domande Allora parto da quest'ultima possiamo studiare e approfondire nel libro La complessità dell'epidemia in book che il complex di istituto ha applicato recentemente nel benissimo capitoletto che io avevo scritto proponevo come possibile azione per il futuro pensare anche ad aumentare quella che si chiama la data literacy cioè la nostra capacità di leggere i dati quindi ci sono molti ottimi testi per imparare come visualizzare i dati come disegnare di un dato come progettarli ma anche come leggerli ci sono molte risorse interessanti anche sul web quindi in questo caso quello io posso raccontare quello che ho fatto io nel corso degli anni da appassionato ho iniziato da nodo ad aggonciarmi a qualche altro nodo c'è attuale qualcuno che diceva cose significative e poi da lì attraverso le bibliografie approfondisci fare le domande non è sempre facile come ho detto verso la fine della mia spiegazione della mia presentazione è se un grafico vi dà risposte definitive probabilmente c'è qualcosa che non va perché stare spingendo troppo il focus come faceva la curva sulla disoccupazione e vado rapidamente sulle altre allora il video che consigliavano conosco quel canale sempre sul nostro sito in passato non abbiamo tradotto qualcuno di quei video che mi sono fatti molto bene quindi vi consiglio anche io la domanda sul tempo purtroppo ancora non riusciamo a far andare la freccia del tempo nell'altra direzione quindi su quella variabile noi non possiamo agire possiamo agire sulle altre cioè sugli altri parametri se noi fossimo dei decisori pubblici possiamo decidere il numero di persone che può uscire il raggio di spostamento il senso della simulazione è capire quanto è oneroso modificare una variabile piuttosto che un'altra vengono fuori conviene fuori qualche altra considerazione e domanda la dimostrazione Carlo Monaco parla del suo interesse per la dimostrazione grafica ma rimane una simulazione in questa pandemia i parametri non sono ancora chiari Mauro Periccioli parla dell'ArcData di cui parla David Hand e poi Nadia Preghenella chiede qualche spunto per rappresentare lo sviluppo sostenibile come fenomeno complesso viene ripresa ancora i Dark Data come facciamo a farci domande corrette se disponiamo di un numero limitato di informazioni Pierluigi Gentili invece torna sulle immagini che ha mostrato Paolo sul criterio di conversione dell'immagine dell'eruzione vulcanica e la complessità Monica Margoni chiede la complessità della sostenibilità di nuovo torna sullo stesso aspetto e gli indicatori per misurarla Nello De Giulio che è l'ultimo finora che ho fatto domande le domande sono importanti nascono dal bisogno di senso ma la fantasia e l'immaginazione sono variabili importanti il caso nasce dall'imprevedibile e dall'inimmaginabile Dario Simoncini chiede a Paolo a che possibilità ci apre la rappresentazione bimodale per capirci vorrebbe capire meglio questo tema e chiede Dario se è un superamento del livello logico riflessivo e potrebbe essere considerato un nuovo tipo di cognizione posso provare io a rispondere a quest'ultima domanda di Dario che è molto ben posta perché sottolinea l'aspetto bimodale della rappresentazione in effetti tutto l'interesse per questo approccio nasce dal fatto che noi andiamo a tradurre in suoni cose che in genere non sono sonore e viceversa e il nostro cervello è il cervello il cervello umano ha una predisposizione unica tra gli altri mammiferi alla musica che significa questo significa che il nostro cervello è in grado di cogliere la coerenza tra i suoni estrarne un ritmo estrarne una melodia estrarne un'armonia cioè estrarre delle strutture semantiche questa è una caratteristica unica tra tutti gli animali che popolano la terra allora riuscire in qualche modo a sollecitare in maniera bimodale quindi non soltanto attraverso le immagini ma anche attraverso i suoni contemporaneamente generati dal medesimo segnale tutto l'aspetto musicale del cervello cioè tutta la sua capacità di cogliere la coerenza e le strutture semantiche contenute nei suoni è un vantaggio enorme ci consente in qualche modo di potenziare il nostro modo di far funzionare il cervello in effetti questo si vede molto bene anche dal brain imaging quando un cervello è in azione sotto l'effetto della musica sia mentre si sta suonando o quando si sta ascoltando ma moltissime parti del cervello sono attive molte di più anche rispetto a quando il cervello percepisce un'immagine puramente visiva quindi creare una rappresentazione bimodale che coinvolga anche i suoni e la musica estratti dal medesimo segnale significa sfruttare meglio il cervello cioè farlo funzionare in una maniera potenziata aumentata e questo è uno dei motivi per cui noi ci siamo soffermati su questo aspetto una cosa l'altra domanda sempre che faceva Dario prima di questa che possibilità ci ha per la rappresentazione bimodale che è una domanda che viene ripresa da Giuseppe Monopoli che chiede se noi abbiamo una capacità bimodale di percezione sì sì assolutamente noi abbiamo innanzitutto la percezione unimodale cioè che è legata ai singoli sensi presi individualmente vista e udito ma poi ci sono delle parti specifiche del cervello che sono proprio deputate all'integrazione per esempio dei suoni con le immagini se noi ci spostiamo un attimino al di sotto della corteccia cerebrale e andiamo a esplorare la parte più profonda e più ancestrale del nostro cervello incontriamo per esempio i famosi collicoli il collicolo superiore e il collicolo inferiore che sono dei agglomerati di neuroni molto molto primordiali in termini di storia evolutiva del mammifero sono in un certo senso comuni a tutti i mammiferi però molto importanti nell'uomo nei due collicoli si formano mappe mentali rispettivamente di tipo che derivano da sorgenti visive in quello superiore e da soggetti sonore nel collicolo inferiore e queste mappe sono fatte proprio per interagire tra di loro e quindi creare una percezione bimodale cioè noi siamo fatti proprio dal punto di vista neurologico per avere una percezione bimodale ci sono tante parti del cervello addirittura ci sono dei neuroni deputati alla percezione bimodale quindi siamo fatti proprio per avere una percezione espansa integrata del mondo e da questo punto di vista c'è un'altra domanda connessa a questa che riguarda la rappresentazione trimodale la possibilità di una rappresentazione trimodale e poi in parte collegata a questo Marinella Sclavi chiede sulla traduzione del linguaggio delle piante comunicare con piante ed animali con qualche aiuto di relazione allora la percezione trimodale si è stata affrontata per esempio da alcuni ricercatori di non mi ricordo quale università tedesca in cui mettevano insieme sia i suoni sia le immagini sia la percezione tattile quindi in effetti il punto cruciale è che il nostro cervello genera immagini quindi mappe mentali per dirla la Damasio di qualsiasi tipo di informazione proveniente da qualsiasi tipo di senso quindi qualsiasi tipo di informazione sensoriale compresa quella tattica quindi mettere insieme queste mappe è proprio il mestiere del nostro cervello e noi possiamo coadiuvare questo mestiere del nostro cervello realizzando percezioni trimodali quindi traducendo in segnale integrabile sia il segnale visivo sia quello sonoro sia per esempio quello tattile noi ci stiamo lavorando anche su questa cosa qui quindi assolutamente sì la domanda che mi intrigava un'altra domanda che ho colto era quella là di di Gentili che voleva sapere una domanda abbastanza tecnica però molto interessante perché voleva sapere quale criterio abbiamo utilizzato per trasportare il suono del vulcano in musica e quindi in note musicali cioè sostanzialmente qual è la trasformata matematica dovrei andare molto sul tecnico però sostanzialmente abbiamo utilizzato quel tipo di trasformata e tipi di trasformate che servono per gestire i segnali non stazionari cioè che cambiano che hanno caratteristiche come la media o la deviazione standard che cambiano nel tempo tipo le wavelet oppure la trasformata di stockwell sicuramente Gentili mi capisce comunque abbiamo utilizzato questa è un po' la caratteristica del nostro metodo che utilizza delle trasformate matematiche estremamente accurate ciao Pierluigi adesso ti vedo delle trasformate matematiche che consentono una trasformazione dei segnali che non ci fa perdere praticamente nulla quindi è molto molto fedele la trasformazione allora ci sono altre due domande c'era rimasta la domanda della Marinella Sclavi sulla traduzione del linguaggio delle piante e degli animali si e poi è collegata a questo c'è quella di Elisa Lucatelli che parla di passaggi della comunicazione e delle informazioni in forme rappresentative della realtà su cui bisogna sempre comunque operare delle scelte quindi in parte è legata a questa domanda poi ce ne sono altri che ritornano su questa domanda di Lucatelli cioè se le immagini sono atte a comunicare bisogna chiedersi a chi si sta comunicando che tipo di percezione c'è e Giovella parla di nella funzione dei collicoli parli di predisposizione di modale del cervello ma non prende in considerazione il ruolo delle emozioni poi si Mauro Periccioli o Periccioli che non so dove sta l'accento comunque legato al concetto del dark data è stato coniato il termine sick data e qui suggerisce un TED Talk di Trisha Wong fatto a Cambridge nel 2016 la complessità richiede di prendere in considerazione i fattori apparentemente marginali che risultano determinanti nel modello predittivo questo direi che è più una domanda forse per Massimo rispondo rapidamente almeno soltanto a una poi lascio la parola a Massimo perché altrimenti parlo solo io però è molto stimolante sono tutte domande molto stimolanti quella là sulle piante cioè tradurre i suoni il linguaggio delle piante è una cosa nella quale non mi sono cimentato però non è fantascienza perché le piante emettono dei segnali dei segnali chimici dei segnali di altro tipo comunque dei segnali e la nostra tecnica è in grado di gestire qualsiasi tipo di serie temporale cioè di segnale che varia nel tempo a prescindere da quale sia la sua sorgente cioè se noi riusciamo a rappresentare matematicamente un segnale anche quello prodotto da una pianta come una serie numerica temporale cioè un valore che cambia nel tempo le possiamo tranquillamente fare l'analisi spettrale e poi utilizzare trasformate con una trasformata di stocco e una trasformata delle guevele per tradurla poi in note quindi la risposta è sì teoricamente noi potremmo provare a interpretare con suoni attraverso suoni addirittura attraverso musica il linguaggio delle piante questa è una cosa molto bella molto stimolante e vi assicuro che non è fantascienza lascerei la parola anche a Massimo sugli altri argomenti e provo a rispondere un po' alla penultima domanda quella di Periccioli che diceva prendere in considerazione i fattori apparentemente marginali vi faccio rivedere un altro punto della simulazione che vi ho fatto vedere prima è un altro di questi schemi in cui qui c'è la probabilità di trasmissione giorni di incubazione giorni di conseguenza in un primo caso noi facciamo partire la simulazione e succede questo se io provo ad abbassare la probabilità di trasmissione a 0,4 riprovo e già per arrivare ai bordi di tutta la mia popolazione ci metto un po' più di tempo se io lo abbasso a non di tantissimo così in questo caso l'epidemia si ferma più perché non è abbastanza forte perché ho fatto vedere questo in questo modello semplificato che è anche una virus per parlare della sensibilità di alcuni sistemi complessi ai parametri iniziali il famoso effetto parfalla di cui si parla spesso questo è un esempio e è chiaro che quello che vi ho fatto vedere è una simulazione matematica in cui poi i vari parametri non sono in connessione da loro se io alzo uno non è che si abbassa l'altro quindi questo è davvero poco più che un giocattolo però ci serve per avere un po' più consapevolezza e un'altra delle domande precedenti che aveva citato Simonetta riguardava se noi abbiamo poche informazioni come facciamo a sapere quali domande di parci qualcosa del genere dobbiamo aggiungere altre due parole importanti che è il pensiero critico perché ci sono altre domande che possiamo fare quali sono i bias cioè i pregiudizi chi ha progettato quella visualizzazione dei dati quali sono i miei bias cioè cosa vado a cercare io in quegli schemi come ho analizzato quei dati ora senza andare nel tecnicismo andare più in profondità però una rappresentazione di dati non proprio come un'opera d'arte però c'è una parte comune è una scelta di campo una scelta di punto di vista però bisogna vedere come sono stati ripuliti quei dati come sono stati distratti trovate qui forse Paolo potrebbe parlare più di me c'è tutta una fase le ipotesi che io costruisco è quello che io voglio dimostrare con quei dati quindi ci sarebbe tanto da dire l'unica cosa il piccolo input che ho provato a dare come competenza diciamo di cittadinanza è di non prendere sempre per buoni i dati che ci vengono mostrati per sottragare una tesi insomma poi lo scienziato appunto qui è Paolo io dico sempre che tutti quanti oggi si stanno concentrando sul discorso per esempio dei big data tutti parlano di big data dati 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 eccetera in realtà si trascura il concetto fondamentale che il dato è molto difficile che esista in quanto datum cioè ogni cosa davvero anche quello che noi consideriamo come dato in realtà è un'interpretazione quindi accanto ai famosi data scientist ecco molto spesso io vengo definito un data scientist perché mi occupo di reti neurali di intelligenza artificiale eccetera però mi piace non mi piace tanto questa definizione perché penso che sia molto più importante concentrarsi sulle interpretazioni manca davvero oggi una scienza dell'interpretazione quindi come ho mostrato molto bene Massimo i dati possono essere tranquillamente fraintesi interpretati in mille modi diversi diciamo che ho sottovole una battuta come dicono spesso se torturi abbastanza i dati prima poi li hanno quello che si può esatto sì ritorno a questo aspetto in diversi modi in diverse domande c'è un filo conduttore da un lato c'è Raffio che aveva detto prima criticare fare domande come avere una coscienza critica senza apparire disfattisti e poi c'è c'è una serie di domande per esempio Nello Di Giulio che parla di percezioni ottenute con certe procedure che rischiano di essere malinterpretate e farsi le domande di me dalla cultura quindi ci sarebbero diciamo sostanzialmente due facce della medaglia nella questione dei dati come si raccordano quindi i bias di chi li raccoglie ma anche l'interpretazione del ricevente quindi ci sono diciamo che i due bias poi intrecciati creerebbero delle pessime interpretazioni e molto quindi le constatazioni le domande poi c'è una domanda tecnica su usare la musica per Mozart per incrementare la produzione dei vigneti la fa Mauro Periccioli di nuovo e poi di nuovo il tema del bias Domenico De Masi dice è un esempio e come sono stati usati la correlazione tra vaccini e autismo Sì io sono molto abituato nel mio lavoro quotidiano a lavorare con dati biasati perché molto spesso il dato geofisico quello che viene chiamato dato geofisico è pieno di bias e quello che noi poi facciamo è un'interpretazione di quello che si chiama dato geofisico creiamo dei modelli che sono pieni di incertezze però questa cosa qui ecco anche ci ricolleghiamo questa cosa qui al discorso fatto qualche un paio di settimane fa sull'incertezza l'incertezza non è una cosa che non è gestibile l'incertezza può essere gestita benissimo anche in maniera molto rigorosa esistono delle tecniche di gestione dell'incertezza e delle interpretazioni incerte esistono tecniche su approcci bayesiani metodi stocastici che anzi utilizzano l'incertezza delle informazioni per estrarre informazioni dal sistema che si sta studiando quindi è vero che i dati sono quasi sempre per non dire sempre bagliasati da chi li raccoglie e da chi li riceve ma questa non è necessariamente una cosa negativa e non è assolutamente una cosa non gestibile può essere gestita in maniera molto attenta e molto rigorosa Massimo volevi intervenire forse quella cosa che prima citavi di raffio cioè nel senso fare domande rispetto a due bias sicuramente che citavi te poi sempre tanti altri poi visto che tutti abbiamo anche una vita digitale poi c'è anche confirmation bias cioè molte volte noi cerchiamo risposte a quello che è già il nostro punto di vista per rinforzarlo nella nostra nicchia quindi qui si aggiunge un'altra questione di ecologia della comunicazione cioè come mi informo quali sono le mie fonti molte delle domande che ho citato quelle su come analizzare i dati a metà tra l'analisi dei dati pensiero critico ma anche gli strumenti del mestiere del giornalismo cioè nel senso o anche qualcuno citava i primi filosofici più alti cioè il dato non è dato sì il dato non è dato viene fuori più volte quindi tutto questo tema del dato che non è virgolette oggettivo ma come ci ricordava poco fa anche Paolo che si può lavorare bene anche con dati biasati come hai detto biasati no no ho capito non l'avevo mai sentito nella versione anglo-italianizzata mi piace molto anche perché è un po' sottostante poi abbiamo fatto una lezione sullo un dialogo sullo scientismo appunto noi partiamo dai dati poi per estrarre informazioni e quello che facciamo molte volte con le visualizzazioni di dati e provare a estrarre il significato è quello che i designer fanno per noi cioè trovare dei tratti delle tendenze poi se si tratta appunto di ricerche scientifiche per confermare e testare i loro ipotesi in altri casi per poter fare anche delle scelte più di lungo rancio cioè quindi infatti io ho parlato di visualizzazione dei dati però molti altri per rischiano parlare di information design quindi non parlare più di dati ma di informazioni ci sono vari livelli a seconda delle definizioni che utilizziamo o come dice Elisa Lucatelli qui che saluto che sta aggiungendo in chat figuriamoci poi quando parliamo da trasmissione di informazioni e di conoscenza quello è l'ultimo livello da cui non siamo arrivati insomma sì quindi scienziati che torturano i dati per rappresentare quello che più gli conviene diciamo che il cittadino che non è un addetto ai lavori né della lettura né della produzione dei dati ha certamente bisogno di un'alfabetizzazione in questo momento però forse mi sembra che possa essere interessante dire ok noi possiamo anche cercare di capire meglio quel termometro che hai fatto vedere all'inizio Massimo secondo me è abbastanza terrificante è un modo di rappresentare i dati che sembrerebbe così evidente usi il termometro che conosciamo tutti invece in realtà non stai facendo non lo so non saprei neanche come definirla quella cosa che hai fatto vedere grazie di averla fatta vedere nello stesso tempo noi oggi siamo in una situazione in cui ci dobbiamo comunque fidare degli esperti delle loro rappresentazioni e dei dati biasati diciamo così fino a un certo punto ok mi permetto di dire che sai quando è che io non mi fido dell'esperto quando l'esperto mi sbatte in faccia un numero senza darmi una barra di incertezza come è stato fatto per esempio in questi ultimi due mesi con tutte le curve sui decessi sui contagi guariti ricoverati in terapia intensiva eccetera eccetera tutte queste curve sono state sbattute in faccia a decine o centinaia di milioni di persone tutto il mondo senza fargli capire qual era l'incertezza su quelle informazioni che gente ne ha fatto grafici estrapolazioni ha tirato conclusioni ha fatto modelli senza sapere che c'era un'incertezza quando si fornisce un'informazione la scienza ci insegna in qualsiasi settore bisogna dare anche la barra di incertezza allora quando io vedo un esperto che mi dà un dato con una barra di incertezza mi fido se invece vedo che mi dà un numero punto e basta non mi fido ok ottima ottima indicazione allora Dario dice fa questa domanda sulla rappresentazione bimodale e la comunicazione a fini commerciali o di customer experience cosa ne pensate? eh questa è una bella idea è una bella idea per far soldi bravo Dario si vede che c'ha l'istinto con istinto economico probabilmente sei lavorato in sì ma sicuramente allora io devo dire la verità ho avuto un sacco di proposte di sfruttare commercialmente questa questo tipo di di approccio io lo faccio a scopo puramente scientifico io al contrario di Dario non ho non ho molta dimestichezza con il business però l'idea c'è voglio dire c'è tanta gente che ci pensa per esempio questa è una delle domande che ho letto ci sta gente che al MIT ha messo in musica il coronavirus la proteina del virus per poterlo studiare meglio anche questa cosa qui in ambito come dire sanitario potrebbe avere dei risvolti tristemente commerciali cioè la percezione bimodale sicuramente può avere dei risvolti commerciali potentissimi io ancora non li ho sfruttati allora ci sono altre due allora Elena si parla Carlo Monaco dice che la maggior parte delle persone non riuscirebbe ad apprezzare l'incertezza che tu sostieni sottolinea essere un dato una qualità importante diciamo della comunicazione sui dati perché le persone hanno bisogno di certezze e l'altra cosa è di nuovo si torna Elena Berton torna di nuovo sul destinatario dell'informazione quindi è molto diverso di oggi sia un bambino o un esperto e quindi come differenziare le rappresentazioni e poi c'è il Giovella torna sull'interpretazione dei dati sensoriali c'è il ruolo delle emozioni che hanno mappe neuronali Antonio dice che quelli del MIT hanno messo su Amazon il brano in vendita allora la poi abbiamo Dario torna sui suoni connessi alle opere d'arte anche questa è una comunicazione bimodale e Nello Di Giulio dice siccome il il popolo non è informato a dovere ma se le decisioni politiche dipendono dalla fondatessa dell'elaborazione queste sono taroccate mi pare che non abbiamo via d'uscita e poi un iPad non sappiamo chi sia si sta parlando della teoria polivagale laddove la percezione sensoriale mi pare assimilata al discorso della trimodalità essendo io una terapeuta sarà io donna non so terapeuta espressiva non prescindo mai dalla universalità della complessa prestazione sensoriale e quindi sostanzialmente nelle piante e nel corpo e quindi interpretare come modalità può essere ah e Daniela Poggi Polini ecco adesso sono arrivata ci ricorda il funzionamento neurofisiologico non leggo tutte le sue considerazioni perché abbastanza lunghe però ci richiama alla trimodalità e alla neurofisiologia della percezione io aggiungo giusto due parole su dati ed emozioni che sono uscite con un paio di domande perché io ho parlato genericamente di grafici dati in realtà ci sono alcune information design che sono davvero delle opere date ho visto c'era Paolo Sciuccarelli che prima interveniva a Milano un bel gruppo di lavoro tutte le infografiche anche del Corriere della Sera la lettura in cui lì il tipo di lavoro che viene fatto su alcune visualizzazioni dati non è più quella di comunicarti necessariamente l'esito di una ricerca ma appunto si estrae significato e si cerca di comunicare in alcuni casi anche un'emozione nei confronti del lettore quando vengono disegnate e pensate e progettate delle visualizzazioni dati si pensa anche all'abruzione all'esperienza di chi poi la dovrà vedere quindi a livello di competenza che può avere ma anche a che tipo di emozione vuoi comunicare o che tipo di riflessione vuoi portare possono essere obiettivi diversi per le visualizzazioni dati che vengono create si parla anche Elena Berton parla nel rappresentare l'ambiente il territorio con i GIS è molto importante il metadato come carta di identità del dato certo sì 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 sono sono d'accordo e io ho provato mi sono trovato molto spesso a gestire dati che caratterizzano ampi ecosistemi il metadato diventa fondamentale sono pienamente d'accordo e volendo tornare un attimo però anche al discorso delle emozioni che è un discorso che mi intriga molto visto tra i vari commenti che io quando ho parlato di collicoli bisognerebbe tener conto anche del fatto che nella parte più ancestrale più antica quindi compresa anche quella che coinvolge i collicoli del nostro cervello è lì che si generano le emozioni primordiali quelle emozioni che il grande Paxep ha più volte discusso nei suoi bellissimi libri tipo l'archeologia della mente ecco io al momento chiaramente non sono arrivato a questo punto così sofisticato di rappresentazione musicale o bimodale o trimodale delle emozioni però anche questa qui non è fantascienza è una domanda molto un'osservazione molto ben posta perché io ecco io mi sono andando via via specializzando nel tempo nella fisica matematica però e quindi non sono un neuroscienziato assolutamente vado un po' fuori del seminato però il nostro cervello emette continuamente segnali segnali di tipo elettromagnetico a varie frequenze anche quando noi produciamo emozioni nessuno ci vieta di lavorare su questi segnali che hanno un loro contenuto in frequenza e trasformarli anche questi addirittura in una espressione in una rappresentazione sonora o bimodale o comunque multisensoriale quindi questo è un argomento davvero molto molto bello e non è fantascienza ripeto allora io direi che altre domande rispetto a quell'insieme che abbiamo visto finora non ce ne sono direi che possiamo avviarci alla conclusione e lascio la parola ad Alberto Sbrogio che vorrebbe in chiusura farvi alcune comunicazioni diciamo conclusive di questo percorso annunciarvi altre iniziative e ovviamente vi porto lo potete vedere anche voi in chat i complimenti di tutti e degli speaker per la splendida discussione ringraziare tutti per veramente per la perseveranza con cui hanno seguito questi incontri e anche io appunto ci rivediamo mercoledì prossimo continueremo sempre con discorsi legati alla complessità e ringrazio tantissimo Alberto e l'ACLI di di Mirano per veramente per questa possibilità e per questo lavoro che abbiamo fatto insieme davvero divertente e anche molto easy è andato molto facile molto sciolto quindi è stata veramente una bellissima collaborazione grazie grazie a tutti grazie